Ciao a tutti otteneriani e non solo, bentornati o benvenuti su questo canale. Oggi dovevo assolutamente fare questo video al volo, non potevo attendere oltre perché proprio stasera, o meglio domani mattina, alle 3 di notte del lunedì ci sarà il trono di spade, finalmente il primo episodio, poi ci sarà nuovamente anche alle 9 del lunedì sera. Comunque, adesso mi sono un po' fatta su, vi spiegherò meglio nella descrizione sotto a questo video. In ogni caso, dovevo assolutamente parlarvi un secondo del trono di spade, di una teoria che a me è venuta in mente e che ho cercato su internet per vedere se anche altri avevano pensato a questa cosa, ma non ho trovato nessun riscontro. Allora, ve la voglio dire a voi, magari ci becco, quindi sarei felicissima se riuscissi a capire la trama del trono di spade in anticipo. Non accadrà mai, però ci proviamo. In pratica, ho visto una locandina del trono di spade dove in pratica ci è disegnato un trono, il trono di spade, con tutti dei cadaveri, tra cui anche i cadaveri dei personaggi. Quindi, secondo me, o almeno, ho pensato a questo. Magari anche altri ci hanno pensato, io non ho trovato l'articolo, fatemelo sapere, mi raccomando. Però, secondo me, nessuno ha pensato al fatto che magari tutti devono morire, tutti i protagonisti devono per forza morire per poter combattere gli estranei. Cioè, in pratica è come se combattessero in casa, perché una volta che sono morti, sono diventati estranei anche loro, combattono contro gli altri estranei, e quindi potrebbero, diciamo, riuscire così a vincere contro di loro e avere molte più possibilità a darmi pari, diciamo. E, secondo me, tutto questo potrebbe essere anche confermato da quella teoria che oramai è diventata famosissima sul fatto che Bren abbia questo collegamento con il capo degli estranei. Quindi, questa sorta di legame potrebbe dar vita a ciò. E, secondo me, quando avranno combattuto contro gli estranei e avranno vinto, perché secondo me creeranno poi all'interno degli estranei il loro esercito, diciamo, creato quindi dai protagonisti, dovranno poi ritornare nella parte dei vivi. E qui, secondo me, entra in gioco Sam, assieme a Melisandre. Per Melisandre perché aveva riportato in vita Jon Snow già all'epoca, e Sam perché in fin dei conti era stata la biblioteca e aveva studiato meglio tutta la situazione. Quindi potrebbero essere loro due. Oltre al fatto che, secondo me, ogni protagonista che è diventato estraneo, per ritornare alla vita, diciamo, deve iniziare un viaggio introspettivo alla ricerca di se stesso e fare quella tipica, diciamo, battaglia tra male e bene interiore. Cioè, all'interno del personaggio, è tipica nei fantasy questo scontro. Di solito il nemico più grande siamo proprio noi stessi. E quindi, secondo me, al termine di questa sfida, con l'aiuto di Sam e Melisandre, potrebbero riuscire a ritornare in vita praticamente tutti, sommariamente tutti, diciamo, o comunque i principali. L'unico dubbio che ho è su Jon Snow, perché lui è già ritornato in vita. Quindi non credo che per lui ci sarà una seconda possibilità. Quindi purtroppo per i fan di Jon Snow temo che non rimarranno bene al termine della stagione. Però vedremo. Altre teorie non ne ho particolarmente. Era solo questa che non mi sembrava di averla letta e mi sembrava avere un certo senso. Quindi ve l'ho voluta comunicare. Ovviamente comunicatemi anche le vostre sotto nei commenti. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video e seguitemi sul canale. Ciao!